Guardia ragazzi Guardia Pronti A voi Preparazione In guardia Pronti A voi Parata Grazie Guardia Pronti A voi L'attacco è parato Guardia Guardia Pronti A voi Passi per il ferro Passi per il ferro Guardia grazie Pronti A voi Preparazione Attacco In guardia In guardia Ragazzi Guardia A voi In guardia Pronti A voi A voi A voi A voi A voi all'ultimo passo guardia a voi grazie in guardia ragazzi a voi guardia a voi attacco no controattacco guardia ragazzi grazie pronti pronti a voi attacco guardia grazie grazie guardia pronti pronti a voi preparazione l'attacco di destra top 1 guardia pronti a voi in guardia in guardia in guardia pronti a voi avete un minuto di pausa grazie 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 Grazie. Guardia, ragazzi, grazie. In guardia. Pronti? A voi. Grazie. Grazie. In guardia, ragazzi. Pronti? A voi. Preparazione, attacco alla sinistra, anche con due luci. Secondo me è sempre sulla preparazione. Ti prende sul cambio di linea. Ti prende sul cambio di linea. In guardia. Pronti? Pronti? Hai detto no? Devo ridirtelo. Hai detto no? Devo richiedertelo. In guardia. Pronti? A voi. In guardia. Pronti? A voi. A voi. Maschera, grazie. Grazie. Maschera, grazie. Attacco contro attacco, non entri sull'errore di Brunce. Lo sapevo al 100%. In guardia. Sono andato a vederla, Francesco. Sono andato a vederla. Ma secondo me non è così. Ma io non faccio un altro problema. Ma l'iniziativa è di sinistra. Pure gambe. E di sinistra. Sì, sì, sì. Ma l'iniziativa è di sinistra. No, no. Ma l'iniziativa è di sinistra. Ma l'iniziativa è di sinistra. Un po' più netto. In guardia. Pronti? A voi. Preparazione. Vai. Calma, ma l'iniziativa ce l'andiamo a vederla. Scusate. No, non lo deve. Scusate. Vieni a chiedere il video. A me la chiesi. Ho chiesto io. La chiesi. Grazie. 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 Abbiamo due opinioni diverse. In guardia. Mamma, dopo te la faccio vedere. Non me la faccio vedere. Senza spenzione. Guardia. In guardia. A voi. In guardia. Pronti. Pronti. Guardia, ragazzi. Pronti. A voi. Non lo vedi, per favore. Però devi stare impetando e devi chiedere il video. Dammelo, dammelo, dammelo. Dammelo, dammelo. De lo merito, però. No. 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 Guardia, ragazzi. Tacco contro attacco. Perdi un tempo all'inizio. Grazie. Perdi un tempo all'inizio del genere attacco. Guardia. Non ha più video. Guardia. Pronti. A voi. Attacco primo no. Vai a parare. Aspetta. Non si è ricostruendo. Francesco. È andato a parare. È andato a parare. Ma ti vuoi fare il cazzo? Ti vuoi stare caldo. Ma invece devi stare caldo. Sì. Poi. Guardia. Guardia. Poi. Guardia. Guardia, ragazzi. Pronto. A voi. ma non mi prendi di più ma non mi prendi di più ma non mi prendi di più guardia guardia sono andato a vederlo a posto ragazzi in guardia a voi guardia guardia pronti pronti a voi bravo 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 tutti e due stop ripresi d'attacco sono andato a borsa francia riprende di gamma in guardia grazie in guardia a voi guardia ragazzi guardia maschera ragazzi guardia guardia ragazzi guardia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.